Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus falls, when Jesus falls. Mancano dieci giorni esatti, al giorno più bello dell'anno, ed ognuno di noi si appresta a viverlo secondo le proprie aspettative e consuetudini. Con il suo carico di emozioni, spiritualità e atmosfera, il giorno di Natale è il giorno della reunione della famiglia, del pranzo alla tavola imbandita e della notte, nella quale la spiritualità religiosa avvolge tutto e tutti, in attesa poi, per grandi e piccini, del rito più laico, quello dei regali. Ogni aspetto concora ad impegnare ognuno di noi in questi giorni in spasmodiche corse agli acquisti per cibo e regali, che piccoli o grandi che siano impegnano e alle volte stressano un po'. Stasera vi facciamo conoscere in tema di regali le novità e le possibilità che si hanno in tema di cura della persona e per la gioielleria. Quest'anno abbiamo, come sempre, delle novità che vanno sia dal gioiello importante, quindi collezioni importanti quali Re Carlo, Visconti, comunque oggetti sempre di valore, sia degli oggetti anche di tendenza che vanno bene sia per la signora che per la ragazza o anche l'orologio un pochettino particolare, quindi noi cerchiamo sempre di avere prodotto comunque nuovo, giovane e di tendenza, un po' per tutti, diciamo. Quest'anno va tantissimo come simbolo l'albero della vita, oppure abbiamo un oggetto veramente particolare, si può, diciamo, adattare a tutte le persone, perché chiaramente si può cambiare all'interno l'articolo e in base alla persona si può dare un valore, un valore aggiunto. Come novità quest'anno hanno proposto proprio il discorso anche del cuore e oppure, volendo, si può andare anche sulla catena oppure sugli orecchini. Abbiamo degli orologi particolari, chiaramente, c'è un ritorno un po' all'orologio comunque col cinturino in tessuto, con dei quadranti comunque semplici, con i numeri e anche comunque con delle lavorazioni allo stesso tempo particolari. Molti appunto ci chiedono anche dei kit completi, vale a dire bagno schiuma, creme corpo, deodoranti e profumo. Ovviamente chi ha più possibilità che vuol spendere, diciamo che deve fare un regalo un po' più completo, prende tutto il set, diciamo. Oppure il profumo, il profumo è sempre la cosa, diciamo che non si sbaglia, è un po' come il jolly. Ecco, quando uno deve fare un regalo che non sa cosa fare, un profumo che è sempre molto ben accetto, specialmente dalle donne. Però ci sono anche gli uomini molto ambiziosi, stanno diventando sempre più ambiziosi e quindi noi gli diamo tutto. Qui curiamo molto la rasatura con pennelli, saponi da barba, dopo barba e anche la cura della barba lunga, con shampoo, balsami, oli, cere per baffi, per cui cerchiamo di accontentare la clientela maschile, dando un buon aiuto alle donne per trovare il regalo per gli uomini.